Porta Portese, prodotti nuovi al prezzo dell'usato. Pensate, divani a partire da 100 euro. Non solo vendita di mobili nuovi ed usati, ma anche professionalità e consulenza gratuita alla clientela. Da Porta Portese sarete seguiti nei vostri acquisti, con soluzioni personalizzate, idonee ai vostri gusti e al vostro impegno di spesa. Per ordini ed informazioni scriveteci a portaportesedifoggia.gmail.com o telefonate al numero 0881 72 09 42 oppure acquistate direttamente dal nostro e-commerce www.portaporteseshop.com Seguiteci sulla pagina Facebook Porta Portese di Foggia. Porta Portese, qualità e bassa scelta, prezzi imbattibili. Veniteci a trovare in via Lucera 280 a Foggia. Porta Portese, Porta Portese, cosa avrai di più? Eccoci qui, buon pomeriggio, buonanotte, buonasera, buongiorno, buon, 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 ciao signori. Benvenuti di nuovo su Telefogia, benvenuti a Porta Portese. Voglio far salutare il mio amico Carlo, che è il mio cameraman, ragazzi, veramente fenomenale. Oggi è arrivato con una strumentazione ancora più nuova, più complessa, praticamente scompare dietro tutta la strumentazione che lui ha. Infatti c'ha questo faro così, mi sembra di essere, come si dice, un identikit, visto quando uno va in un interrogatore. Bravo, Lello, bravo. Poi voglio salutare il mio amico, grande amico Lello, che è dietro, che ci fa i versi, i gesti. E mi suggerisce il mio gobbo. Il mio gobbo di Notre Dame, di Notre Dame. Però, no, il mio gobbo di Foggia, senza Notre Dame, perché se mi affoggiano il mio gobbo di Foggia. Signori, oggi dice, oggi vi faceva Carmelo e Antonio, oggi che presentiamo? Niente Carlo, come niente? No, niente, perché oggi voglio andare, come si dice, alla, Carlo, alla confusionaria maniera. Perché tanti mi dicono, vabbè Antonio, ma tu presenti un prodotto. Ma noi che ne sappiamo cosa vendi altro, è vero. E avete perfettamente ragione. Io poi accetto tutte le vostre critiche, le prendo e ne faccio tesoro. Ok? Bellissimo. Allora, signori, da dove partiamo? Possiamo partire da ovunque, possiamo partire da qui, possiamo partire dalle poltroni relax. Noi cosa siamo noi? Noi siamo un negozio di arredamenti, vendiamo sogni. No, quello non siamo noi che vendiamo sogni. No, non vendiamo sogni, no signori, ma non vendiamo sogni, niente sogni. Vendiamo arredamento. Arredamento, arrediamo le vostre case con tanti piccoli oggetti, ma anche grandi, 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 come camere da letto, soggiorni, cucina. E oggi voglio andare su tanti prodotti. Voglio partire dalle poltrone. Cosa possiamo mostrarvi? Poltrone, abbiamo divani, vetrine, abbiamo camere da letto. Vi voglio mostrare di tutto. Oggi voglio farvi vedere di tutto. Oggi voglio farvi vedere di basso. Andate, è buccato. Calma, calma, calma. Signori, innanzitutto, scusami, mi potete... Lello, scusami, ma ti piace la mia maglietta? Come nei miei slogan. Ragazzi, noi vendiamo solo roba buona. Signori, solo roba buona. Solo roba buona, veramente. Numero di solo roba buona, signori. Allora, visto la roba buona, vendiamo divani, letti. Lo so che Carlo mi sta dicendo le parole, perché diciamo, ma io non posso seguirti così con la... Oh, carlè, piacere, abbi pazienza. Dopo ho detto con un bacetto. Però seguimi, seguimi con me. Bellissimi, divani mini, divani grandi, divani 120 euro. Ve l'avevo già presentati, divani 120 euro. Cioè, tu mi dai 150 euro, dito il resto di 30 euro. Cioè, signori, meglio di così non si può. Bellissimi, divani 120 euro. Tutti sfoderabili. Quanto è bello questo, 200 euro, tutto sfoderato. Vedi che colore. Guarda, è bello questo blu, bellissimo. Ma andiamo avanti, vi manda veloce. Abbiamo qua, cioè, guarda qua. I quadri, quant'è bella questa donna, bellissima. Questo quadro, tutti i quadri. Questi li realizza, ovviamente, non è che... Fai un mio amico, fa le cornici, fa le cosano stampe. Un mio amico, bellissimo. Pare schiamare una roba e dopo te l'ho presa. No, ma perché dai che presenta... Quello che con mani a me dai che presenta a te l'ho, vatti. Allora, bellissimo. Quadri, quadrini, quadretti. Ma vai vedere, cioè, quanto è bello questo, eh. Quanto è bella questa donna. Cioè, ragazzi, non vendiamo solo... Perché parchecchi dicono, vabbè, ma tu che cosa vendi? Io vendo di tutto. Io vendo tutto, signori. Bellissimi, divani, divanini, divanette. Vieni, caro, lo diamo. Abbiamo un sacco di cose da farvi vedere. C'è un sacco, un sacco di cose da farvi vedere. Cucine, signori. Mobili, cucina. Lavelli, piano cottura. Cappe. Vedete qui, mobili, mobilini. Lavelli con lo scarico, ovviamente. Senza scarico, come si fa? Giustamente. Signori, blocchi, cucina. Le, guarda. Caro, se mi dai 300 euro ti do il resto di venti. Vedi, oggi mi piace questa... Ti piace questo affronto, Lello? Ti do 300 euro? Ma come stiamo scherzando? 280 euro, blocco, cucina. 280 euro, 280... Si sente, si sente? Ah, si sente, ok. 280 euro, blocco, cucina da un metro e ottanta, signori. Bellissimo. Con tutti gli opi si può avere K con la pianta. Fammi andare avanti, non si può. È tutta roba buona, signori. Armadio, guarda qua. Vedi quanto è bello questo armadio, va. Guarda qua. Cucu. Bah, bellissimo l'armadio scorrevole, ragazzi. L'abbiamo in tutti i colori. Bianco e grigio, grigio e bianco, bianco e grigio, grigio e bianco. Bellissimo. Roba buona, veramente. Vieni con me, vieni, vieni. No, devi venire con me, car... Oh, devi venire con me. Dai, forza. Signori, bellissimo. Guardate qui. Armadio, aspetta che qui siamo come... Qua, passate, vedi qua, si accende tutto. No, no, rimani lì. Rimani qua, guarda qua. Armadio, armadio. Oggi ti farò correre, Carlo. Oggi non dobbiamo far capire niente alla gente, perché alla gente non dobbiamo far capire niente. Dici, vabbè, ma allora tu scaffaci, ma basta, cosa... Non so, non avete capito. Voi avete visto quando uno si trova in una valanga, Dici, ma che alla fine cosa vendi? È come quando hai visto nei grandi centri commerciali. Dici, ma che cazzo? Ma che cazzo? Ma che cazzo? Ci arrivava così pieno di bucci. Ma che cazzo bonito? Così, signori, bellissimo. Guardate quanto è bello. Armadie, armadini, armadietti. Vedete, con le cassetti, signori. Guarda, guarda, questo è bello. Questa si chiama armadio Francia. Signori, veramente, è un armadio fiocco, doppio fiocco, diceva il grande Jerry Calat. Bellissimo, libidine col fiocco. Bella, veramente bella. Roba veramente stra buona. Poi ce l'abbiamo a due ante, a tre ante. Camere da letto con e senza cassettino. Li diamo anche senza cassettino. Scherzo, l'abbiamo appena montata. Dobbiamo montare altro cassetto. Bellissimo, guarda qua, armadio. 550 euro. Cioè, 550 euro, camera da letto completa. Armadio, comodini, letto e specchi. Cioè, armadio, comodini, letto e specchi. Vito lì insieme a me. Armadio, comodini, letto e specchi. Questa è una... Armadio, come... Signori, signora, tu che sei adesso seduta sul tavolo, non sul tavolo, sulla sedia, vicino a... Che stai mangiando adesso con la pasta, che noi c'erano più o meno a questo orario. Signori, ripeti insieme a me. Armadio, comodini, letto e specchi. Armadio, comodini, letto e specchi. Ve lo potete tatuare. Guarda, non male. Signori, bellissimi. Arte armadio, armadini, armadio. Armadio, questa è la fila, è il corridoio degli armadi, signori. Ma vieni con... Oh, Carlo, Carlo, vieni con me. No, Carlo, vieni con me, perché tu stai andando un po' troppo lento, dai. Non devi essere lento, Carlo, vieni con me. Tavole quattro sedie da 200 euro. Cioè, tu ti do tavole quattro sedie da 200 euro. 200 euro, 200 euro, ti do tavole quattro sedie. 200 euro, tavole quattro sedie. Vieni con me, vieni con me. Carlo, vieni con me. Bellissimi, scarpiera Gabriele, vedi quanto è bella questa scarpiera. Qua ci metti le scarpe, Carlo, metta così le scarpe qua. Vedi quanto è bella. Metti qua le scarpe, vedi? Quanto è bella, vedi qua, fai così e si apre. Cioè, Carlo, ma quanto è bella. Ma quanto è bella. Per tutte voi donne, voglio fare un discorso serio. Signori, dovete stirare i panni. La vita sarà i panni. E come li dovete stirare qua? Quanto è bella. Quanto è bella. Però voi uomini dovete passare i panni, ovviamente. Quanto è bella, quanto è bella, quanto è bella. Vedi qua? Cioè, sì. Cioè, ragazzi, qua merito un applauso. Ma quanto è bella. Questo lo fa un amico mio artigiano. Vedi, sì, che ti... Tu lo posso assicurare? Credi di me, fidati. Fidatemi, fidatemi. Fidatemi, bellissimo. Vedi qua, quanto è bella. Vieni con me, Carlo, Carlo, Carlo. Corri, 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 corri. Vedi qua, cassettiere piccoli, vedi? Qua, te, quanto è bella. Uno, due, tre, trenta centimisi. Guarda qua, guarda qua. Carlo, 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 Carlo. Cioè, ragazzi, ma che... Ma che vu di caffè. Aspetta, non è finita. Vieni qua, vieni qua, Carlo. Vieni qua. Oh, Carlo, vieni qua. Quanto è bella. Vedi quanto è bella qua? Vedi quanti scarpi è. Tutta roba... Questa la voglio precisare. Tutta roba italiana. Tutta roba italiana. Bellissimo, signori. Io rito. Dopo ve lo faccio vedere perché. Bellissimo. Scarpiera, guarda quanto è bella. Qua ci metti quante scarpe vuoi. Quanti piedi c'è tu? Due. Ah, tu due piedi c'è. Che ti dico i piedi? E di scala? Mio padre. Ma no, no. Vieni con me, Carlo. Vieni qua. Quante, 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 quante. Guarda, guarda. Guarda, vieni con me, Carlo. Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda, guarda. Cioè, da parlare? Devo continuare a parlare? No, non voglio continuare a parlare. Vieni con me, Carlo. Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda, guarda. Quanto è bella questa. Guarda. Ti metti così qua. Cioè, basta. Basta, basta, Carlo. Basta, basta. Non voglio parlare. Scrivania, libreria. Guarda qua. Guarda, guarda qua. Libreria. Guarda qua, guarda. Cioè, Carlo. Guarda qua. Guarda qua. Serrandino. Cioè, signori. Cioè. Robabo. Robabo, robabo. Vieni con me, Carlo. Vieni con me. Vieni con me, Carlo. Cassettiere a sette cassetti. A casa tua ce l'hai le cassettiere a sette cassetti? Ce l'ho io. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Bellissimo. Guarda qua. Guarda qua. Guarda qua. Guarda qua. Vieni con me, Carlo. Vieni. Carlo, vieni con me. Angolate nei scappi. Vieni con me. Vieni qua. Vieni qua. Cassettiera più antina. Cioè, Carlo. Vieni con me, Carlo. Vieni con me. Che vieni con me. Guarda qua. Questa è fenomenale. Vieni qua. Vieni qua. Guarda qua. Quante qua. C'è qua dentro. Aspetta. No, non posso entrarci adesso. Ci vieno qui. Vieni con me, Carlo. Carlo, te ne vuoi andare? Vieni con me. Bellissimo, vieni con me. Vieni con me. Guarda i comodini. Guarda i comodini. Guarda le sedie. Cioè, quanto è bello. Pure le sedie, ragazzi. Pure le sedie. Ragazzi, veramente, ci state capendo qualcosa? Io no, sinceramente. Comunque, vieni con me. Si può continuare. Eh, vieni qua. Signori, signori, ci è venuto a trovare lei. Lei, lei, lei. La guru della situazione. Allora, siccome io... Mamma, qua non ci sta capendo niente nessuno. E neanche io. Tu non ci capisci niente. Poi c'è lo stimo papà dopo. Carlo, lascia a bere da mia madre. Vieni con me. Vieni con me, quanto è bello. Vieni qua. Vieni qua, cassettiere 120 euro. Signori, fatemi fermare. Fatemi fare una premessa. La mitica sedia Pisa. Ce l'hai tu a casa tua, Carlo? No. L'hai mai avuta a casa tua questa? Eh, dai. Un ritorno al passato. Perché il passato non si deve mai dimenticare. Bellissimo, signori. Sedia Pisa. Gli altri non ce l'hanno. Noi ce l'abbiamo. Non ti preoccupare, Carlo. Mo. Vieni con me. Vieni con me. Vieni con me, Carlo. Vieni con me. Vieni qua. Tavola e quattro sedie. Prima avevo detto 200 euro. In ferro. Il legno, 280 euro. Cioè, quanto è bello, quello? Cioè, ma guardate qui. Quanto è bello? Bellissimo, signori. Cucine. Vieni, vieni, Carlo. Carlo, basta, basta. Carlo, vieni qua. Vieni, vieni, vieni qua. Cucine. Carlo, ti posso far vedere un tavolo? Guarda con me. Qua, qua. Qua. Non ti emozionare, però. Ne chiagli. Pure tu, Lello, non biangere. Perché guarda quanto è bello. Guarda. Guarda qua. Posate. Guarda. Ragazzi, roba buona. Guardate qua, guardate qua. Roba buona. No, fai lo bene. Scusami, Carlo. Fallo vedere. Roba buona, signori. Roba buona, veramente. Fallo vedere qua. Vedi qua. Giri così. Fai così. Che è successo? Niente. Non è successo niente. Mi piace questo? Ragazzi, sono idee geniale. Carlo, vieni con me. Vieni con me. Guarda qua. Cucine. Cucine che vanno. Cucine che vanno. Tu, Carlo. Vedi qua un muro. Tu lo vedi vuoto? Fai vedere qua. È vuoto? Non lo è. Dici perché io sono come Udini. Signori, qua ci sarà una cucina. Perché qua cucine che vanno. Cucine che vengono. Cucine che vanno da sole e tornano da sole. Sono come i boomerang. Vanno e torno. Bellissimo. Cucine 2,55. Cucine 2,55. 3,60 m. La mitica. La Frodite. Quanto è bella la Frodite. 3,60 m. Quanto è bella. Bellissima. Tavoli. Carlo, non ti distrarre. Che tavoli? Vedete qua? Di qua ci sono i tavoli e di qua ci sono le cucine. Di qua ci sono i tavoli e di qua ci sono le cucine. Tavoli. No. Sempre da là i tavoli. Sì, i tavoli sono di là. Bellissime. Sedie. Cioè, quando è bella. Dai, basta. Basta, dai ragazzi. Vieni con me. Vieni con me, Carlo. Guarda, è bella questa cucina. Quanto è bella questa cucina. Quanto è bella questa cucina. Sarà dimagrito di 30 kg, Carlo, dopo questa diretta. Bellissimo. Guarda quanto è bella. Guarda, è bella. Stupendo. Mamma, ragazzi. Guarda. Guarda qua, la cassettina da 90. Cioè, bellissimo. Carlo, vieni con me, Carlo. Vieni con me. Ritorna indietro. Vieni con me, Carlo. Lo so, vieni con me. Vieni con me. Vieni con me. Vedi, vedi Lello come scappa. Scappiamo tutti. Scappiamo tutti. Scappiamo tutti. Scappiamo tutti. Vieni con me, Carlo. Vieni, vieni. Vieni con me. Scappa. Vedi pure Lello se ne scappa. Vieni con me. Vieni a vedere qua. Vieni a vedere qua. Sedie pieghevoli. Sedie pieghevoli. 12,50 euro, signori. Bellissime. Non si può mangiare niente. Signori, non c'è niente da mangiare qua. È inutile che guardi. Vieni con me. Bellissimo. Cucine 2,55. Questo è qua. Mi voglio soffermare due secondi, signori. Fatemi respirare. Fammi respirare. Bellissimo. Guarda qua, quanto è bello. Guarda. Anzi no, voglio farlo con quest'anta. Perché è più bello. Guarda, Carlo. Ragazzi. Ragazzi. Chiamatelo Blumosho. Chiamatelo come volete. Io la chiamo Lux. Perché vedete qua. Cioè, quanto è bello. Questa è a prova di bambino. Perché aveva un bambino incacchiato. Diceva. Bellissimo. Siamo tutta la cucina Lux. Vieni con me, Carlo. Vieni con me. Vieni, mo ti voglio farlo. Visto che non ci stiamo capendo niente di nessuno. Vieni con me nella confusione più totale. Guarda qua, Carlo. Vieni qua. Passati qua per far vedere tutto. Vieni con me. Lo so che mo ti dice. Ma questo che ci faccio. Vieni con me. Venite con me. Venite con me. Andiamo con me. Vieni, vieni, Carlo. Ci sei? Vieni, Carlo. Andieni, vieni con me. Vieni con me. Vieni con me, Carlo. Vieni qua, vedi qua, divaniata angolare. No, però non devi innamorare che questo è già venduto. Però è bellissimo. Ma non è bello il divano angolare. Carlo, con me. Vieni con me. Poltrone te l'ho fatta vedere. Poltrone bimbo. Cioè, ragazzi. Vieni con me, Carlo. Vieni, vieni. Vieni, Carlo. Tu non ti devi distrarre, però, nelle cose. Vieni, vieni con me, Carlo. Bellissimo. Roba. Oh. Ovviamente. Roba porno. Vieni con me. Matera, Simo, Bilisha, Biretti. Pure gli orologi, signori. Che ore sono? Che ore sono? Perché non sai che ore sono? Perché domande mi fai, Lello? Che ore sono? Bellissimo, Bilisha, Materassi. Lavagne, lavagnine, lavagnette. Letti a castello. Da 150 euro. Vedi qua, guardi qua. Questo si chiama? No, non lo so. E lui che mi fa? Cosa? L'uomo? L'uomo? Perché è morto? Lo vedete morto? Voi noi, come vedete qui? Bellissimo. Puff, vedi qua, le madie. Questo è il mio mondo, signori. E' il mio mondo perfetto, le madie. Quando sono belle tutte le madie, come si chiama? Le pari di soggiorno, belli. Bevi, Carlo, vieni con me, vieni con me, vieni con me. Corriamo, corriamo, tutti quanti andiamo, corriamo, corriamo. Corriamo tutti quanti, dai, 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 dai. Veloce, 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 veloce. Vedi qua, quello che va, quello che viene, congetta che sta giù, non si capisce niente. Qua, bellissimo divano lux, immobilità, bani. Cavolo. C'è, Carlo. Ma che te chiedisci, Carlo? Dimmi tu, dimmi tu, che vi devo dire più. Ragazzi, basta, non dico più niente, non dico più niente. Vieni con me, Carlo, vieni con me, vieni con me. Poltrone, quant'è bella questa poltrona, guarda qua. Rossa? No? Dove sta la nera? Eh, la nera si è già pigliata. Eh, la nera no, si è già pigliata. Vabbè, non va niente. Immobilizzi, vieni, vieni, vieni con me. Vieni, vieni con me. Bellissimi. Specchiere, signori. Specchiere da bagno. Qui vi potete specchiare in tutta la vostra bellezza. No, non mi chiede, ma che abba ciò. Vieni con me, vieni. Vieni qua, tavoli, tavolini, tavolini. Mondo camere da letto, signori. Vieni qua, vieni qua, Carlo. Vi faccio vedere la nostra camera da letto più gettonata e più bella. L'ho progettata io. Non ridere. L'ho progettata io. Mi iniziano a fare i jazz. Già, bovino. Vabbè. Camera da letto Valentino, bellissima, col cuore. Questo è il mio cuore per voi. Roba buona, signori. Allora, che dire, signori? Dove ci troviamo? Tutta sta confusione. Dove ci troviamo? Eh, boh, che ne sa. Ci manca il scurdo. Comunque, invia Lucera 280 a Foggia. Visitate il sito portaporteseshop.com. Mi raccomando. Visitate, veniteci a trovare in questa confusione qua, anzi, capito? Se avete capito voi qualcosa, siete veramente bravi. Se non già avete capito niente, già chi capite niente, manchi, sinceramente. Signori, vi aspetto in via Lucera 280 a Foggia, basta. Non voglio dire più niente. Roba buona, signori. Portaportese. Prodotti nuovi al prezzo dell'usato. Pensate, divani a partire da 100 euro. Non solo vendita di mobili nuovi ed usati, ma anche professionalità e consulenza gratuita alla clientela. Da Portaportese sarete seguiti nei vostri acquisti, con soluzioni personalizzate, idonee ai vostri gusti e al vostro impegno di spesa. Per ordini ed informazioni scriveteci a portaportese di foggia, chiocciolagmail.com o telefonate al numero 0881 72 09 42 oppure acquistate direttamente dal nostro e-commerce www.portaporteseshop.com Seguiteci sulla pagina Facebook Portaportese di Foggia Portaportese, qualità e bassa scelta, prezzi imbattibili Veniteci a trovare in via Lucera 280 a Foggia Portaportese, Portaportese, cosa avrai di più?